Come mi piacerebbe diventare mamma. Dottore, dottore, venite qua. Sempre voi, sempre voi. Ma perché non venite allo studio? Lo sapete dove si trova il mio studio? Sì, lo so. E perché non venite? E perché faccio sempre tardi. Avanti, qual è il problema? Dottore, ci vuole molto per rimanere incinta? No, ma che molto? Bastano anche 5 o 6 centimetri. Ah! Sì, sì, sì.